Pareggio 1-1 tra Turris e USTB in un derby che mancava in campionato da più di 20 anni per via delle alterne fortune che hanno caratterizzato le ultime stagioni delle due squadre, con i Coralini a sgomitare sui campi impolverati delle categorie dilettantistiche e le Vespe che invece hanno vissuto il miglior periodo della loro storia disputando diversi campionati di Serie B. A partire forte sono gli ospiti che trovano subito il vantaggio con Kodromatz, il difensore gialloblu è il più lesto a colpire il pallone di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I Coralini non trovano spazio e non si rendono mai pericolosi, anzi la Juve stava ad andare vicino al pareggio con Scacca Barozzi ma Abagnale compie un'ottima uscita ed avvita il peggio. Nella ripresa è subito Turris e Rainone stavolta a colpire di testa e siglare il pareggio con un gol fotocopia di quello degli Stabiesi. Il secondo tempo offre poche altre emozioni con le due squadre che non corrono pericolo in difesa a parte un solo intervento in tuffo di Abagnale. Un altro pareggio quindi dopo quello di Foggia per gli uomini di Fabiano che così tornano a fare punti in casa dopo due sconfitte mentre la Juve Stabia non sfata in Tabuliguri dove le Vespe non hanno mai vinto. Appuntamento a domenica prossima per i Coralini che affronteranno la difficile trasferta al Massimino di Catania.